Praga, siamo nella seconda della metà del 1300. Noi giocatori siamo chiamati per costruire questa incredibile città che diventerà poi una delle più grandi capitali europee, come ben noi sappiamo. Qui dobbiamo scegliere accuratamente le nostre azioni tramite un sistema che adesso andremo a vedere per costruire i pittorischi quartieri, il Ponte Carlo, il Muro della Fame, discoteche e quartieri notturni, forse quello un po' prenamaturo, e giostrarci attentamente tra politica e religione. Tutto questo in Praga, Caputrenni, localizzato in Italia a Tesla Games. Praga, 1346, Carlo IV è appena stato dichiarato imperatore del Sacro Romano Impero e vuole trasformare la sua città natale nella capitale dell'impero. Ora, nel 1346 la città è già una capitale europea, ma è molto diversa da quella che conosciamo adesso. In particolare, conta giusto una manciata di piazze, il Ponte Carlo sopra la Moldava è ancora in costruzione, così come sono ancora in costruzione il Muro della Fame, la struttura difensiva della città, e la Catedrale di San Vito, la struttura religiosa. E qui entriamo in gioco noi giocatori, che nei panni di facoltosi cittadini, costruiremo letteralmente la città cercando di guadagnare i favori reali, cioè i punti vittoria. Beh, se dobbiamo costruire una città, ci servirà una gru, che nel gioco è rappresentata da questa rondella. In particolare, i giocatori del loro turno sceglieranno una tessera, eventualmente pagheranno costi accessori o incastreranno benefici a seconda della posizione. Finito il loro turno, ruoteranno giù uno scatto alla rondella e incastreranno la tessera selezionata in cima. Questo sistema permette anche di scorrere i turni di gioco, in quanto dopo un giro completo della rondella, questo cubo cadrà in uno spazio, non permettendo più di muoversi. Questo dichiarerà la fine del round. Quando il giocatore sceglie una tessera azione della gru, potrà decidere di incastrare i bonus indicati sopra lo spicchio della tessera azione che andrà a sceglie, che in genere sono risorse o scambio di risorse, punti vittoria, o anche la possibilità di costruire edifici speciali. Inoltre, nella tessera azione che andrà a sceglie, deciderà quale delle due lezioni utilizzare. Ogni giocatore ha a disposizione la sua plancetta, con i tracciati di produttività delle due risorse più comuni, ovvero la pietra e le monete, e questi meccanismi rotanti che indicano quante di queste risorse hanno a disposizione. Come vedete ci sono dei cubi che bloccano il movimento, perché quando si raggiunge un certo livello si toglie il cubetto, che diventa disponibile, e si guadagna il bonus indicato sotto. Inoltre ci sono questi due tracciati verticali, che sono il tracciato delle tecnologie e il tracciato delle università. In particolare il tracciato delle tecnologie permette di pescare queste tessere e tecnologia che danno benefici ulteriori durante il gioco. I giocatori hanno anche a disposizione la plancia azioni, che riporta le sei azioni eseguibili durante il loro turno. Grazie ad un'apposita tessera azione, queste azioni potranno essere migliorate, piazzando sopra queste tessere. Quando si andrà a scegliere di nuovo questa azione si farà la versione migliorata. Oppure, grazie a questa tessera azione, si potrà costruire intorno alla plancia delle fortificazioni delle mura. Le tessere mura hanno un costo, dei benefici immediati, inoltre se si fanno combaciare i simboli sul lato si guadagnano ulteriori bonus extra. Non ci sono solo i simboli sul lato a far combaciare, ma anche sugli angoli, certe volte, che forniscono gettoni extra, che sono un'altra particolare risorsa, che danno punti a fine partita in base a determinate condizioni che andremo a vedere. Altra risorsa non comune sono le finestre, che possono essere argentate o dorate, sono le finestre con cui vengono costruiti il muro della fame e la cattedrale di San Vito, che oltre a permettere di salire sui tracciati di questi due edifici, possono essere spese anche per eseguire azioni extra nel proprio turno. Veniamo ora alla parte di costruzione vera e propria della città, perché grazie a questa tesserazione è possibile prendere una tessera edificio e piazzarla su uno degli spazi cittadini. Abbiamo una zona più centrale, in cui ci sono dei costi di piazzamento accessori, ma anche dei bonus addizionali, oppure la parte più periferica. Le due zone sono divise dalla strada del re. Anche in questo caso le tessere prevedono un costo e un beneficio istantaneo. Inoltre alcune tessere hanno uno spazio, per cui quando posizionate prevedono di poter piazzarci sopra un cubo del proprio colore. Questo è particolarmente importante perché quando si andrà a circondare una piazza, il giocatore che avrà più cubi sopra le tessere che la circondano del proprio colore prenderà entrambi i benefici indicati. A seguire i giocatori che hanno almeno un cubo del loro colore intorno alla piazza sceglieranno uno dei due benefici. Con l'ultima azione invece si avanzerà su questo tracciato, che è la strada del re, che darà dei particolari bonus. Per questa azione è particolarmente utile questa risorsa non comune, che sono delle uova che danno anche degli bonus addizionali. Al termine della strada del re è presente il ponte Carlo, per cui arrivati all'ultima casale si possono spendere le uova per selezionare queste tessere e posizionarle sopra il ponte così da andarle a costruire. Si guadagnano le risorse indicate che si vanno a coprire e i benefici restituiti dalla tessera. Questa cosa delle uova è molto caratteristica perché, secondo la leggenda, il ponte Carlo è stato costruito mescolando torli d'uovo alla malta per aumentare la robustezza, quindi nel gioco è stata rappresentata così. Alcune tessere edificio, mura o anche piazze cittadine presentano questi simboli che permettono di avanzare in orizzontale su questi tracciati della cattedrale, quindi il tracciato religioso, oppure del muro della fame. Per avanzare invece in verticale bisogna spendere finestre argentate. Alcune casale del tracciato presentano dei bonus oppure avanzamenti gratuiti ulteriori. Al termine della partita ci sono diversi modi per fare punti, oltre a quelli che si guadagnano durante il gioco. Per esempio si guadagnano punti in base alla riga in cui si è arrivati nel tracciato della cattedrale e nel tracciato della fortezza. Invece per la colonna si moltiplicano i punti indicati alla colonna per il numero di segnalini religiosi oppure fortezza che si sono guadagnati durante la partita. Così come si guadagnano punti moltiplicando il numero vicino alla casale in cui si è arrivati nel tracciato della tecnologia, i punti restituisci dal tracciato dell'università. Si guadagnano punti anche per le tessere obiettivo che sono prese durante la partita o ancora per il muro più lungo interno alla propria plancia delle azioni, le risorse uova che si hanno in proprio possesso e via dicendo. E se durante la spiegazione vi è venuta voglia di visitare Praga, sappiate che nel regolamento c'è l'inserto storico con la descrizione della storia di tutti gli edifici più importanti e dove sono posizionati sul tabellone. Allora, innanzitutto per calarmi bene nel tema, come vedete per parlare di un autore cieco lo faccio senza occhiali, potere delle luci di Canopus che ha dentro questa stanza. Ma vediamo le cose più importanti di cui stiamo parlando, quindi di Praga a capo terregni. Allora, l'autore rispetto agli ultimi due precedenti titoli, Pulsar e soprattutto Underwater City, ha pensato a un gioco più ciccioso, più come materiali, proprio come tabellone imponente, cose in 3D, 3D per modo di dire, tante tessere. Ha ripreso un po' quello che aveva fatto in Shipyard, probabilmente anche perché il gioco, parlando della sua nazione, voleva farla apparire come grandiosità. Come risultato però a livello di meccanica, a mio avviso, questo Praga è un piccolo passetto indietro rispetto a questi altri due titoli, quindi il gioco ne perde un po' in eleganza, ne perde anche un po' in profondità, a mio avviso, soprattutto rispetto a quel capolavoro che è Underwater City. In questo caso, infatti, noi abbiamo questa rondella che, diversamente da quella di Gerze, ha un meccanismo comune di selezione delle azioni, con meccanica legata anche ai costi, che ad esempio, rispetto ad altri miei colleghi che sono presenti in questo underboard, ho trovato, renda il gioco meno programmabile e meno gestibile in tanti giocatori. E già qui un aspetto, io l'ho trovato più piacevole, ad esempio, giocarlo in due rispetto in quattro giocatori. Oltre a tutto questo, poi comunque, devo dire che il gioco, secondo me, è ambientato come German, non solo perché c'è la descrizione storica alla fine del regolamento, cosa che io apprezzo sempre, ma anche per il fatto che almeno l'autore si è sforzato a tenere le uova per il tracciato del muro della fame, il concetto del Ponte Carlo, il fatto che si vada a costruire la città e che ci siano due aree di costruzione, una più vicina a Re Carlo, invece una più lontana, quindi quella più vicina da più punti, ma costa di più. Insomma, questi elementi mi hanno fatto apprezzare comunque il gioco anche dal punto di vista dell'ambientazione, anche perché, per l'appunto, apprezzo molto la città di Praga, quindi speravo di ritrovarla. Ho trovato interessanti anche a livello di longevità il fatto che si possono utilizzare delle tessere differenti per la selezione delle azioni, quindi i due lati, e quindi questa è una cosa che ho visto funziona bene. Un aspetto che non ho apprezzato, devo dire, del gioco è l'unica forse parte di randomicità che si trova nella pesca non tanto delle tessere legate al tracciato della cultura, ma alle tessere che danno punti azione, quelle legate al Ponte Carlo o legate alla costruzione della cattedrale, se non vi ricordo male. Queste qui possono dare un boost di punti che è un po' fortunoso, dipende un po' da quale pescate e quindi se siete un po' più o meno fortunati. È vero, è un gioco dove si fanno punti anche solo guardandolo, però diciamo che beccare 10 punti in più così potrebbe essere una cosa un po' esagerata. Comunque, nonostante questo, io direi che il gioco si merita un buon 7. Dopo aver provato Underwater Cities non vedevo l'ora di sedermi al tavolo e provare Praga Capotregni e effettivamente sul tavolo fa una scena incredibile. C'abbiamo questa bellissima plancia colorata, questa città che viene costruita dalle varie tessere, a me il city building piace un sacco, questi tracciati 3D che spuntano come le mura di un castello, veramente d'impatto. Poi ti siedi, c'è questo bello rondellone che gira e improvvisamente le cose iniziano a cigolare. Cigolare perché? Perché ergonomicamente certe scelte non funzionavano, era più da un punto di vista effetto estetico che da un punto di vista funzionale. Ma tolto questo, il gioco c'è tutto. Ci sono un sacco di meccanismi che si intersecano l'uno con l'altro e che ci permettono un'esperienza di gioco tutta da esplorare. Tutta da esplorare perché? Perché la prima volta che ci sediamo non riusciamo a capire niente. Dove dobbiamo andare? Cosa dobbiamo provare a fare? Ma i punti, come si fanno? Non vi preoccupate. Sedetevi, provatelo. È un gioco che si ispira velocissimamente ma ci mettete veramente poco, molto di più a capire come tutte le cose sono collegate. E ce ne sono veramente tante. Non vi preoccupate, come vi dicevo prima, perché tanto di punti ne farete in qualsiasi modo. È però tanto elegante forse da tenermi poco incollato al tavolo se mi siedo a giocarlo da solo. Infatti è molto orizzontale, permette di scegliere e di fare molta tattica, ma non è uno di quei giochi stretti che all'inizio decidi adesso faccio questa cosa qua e mi concentro su questo obiettivo. Anche perché la rondella gira costantemente e dovremo ogni turno riuscire a giostrarci meglio con l'azione che secondo noi ci permette di fare più punti. Al netto di questo io non credo molto a quelli che vi diranno che è un German ambientato. Di ambientazione qui sì, c'è un po' di storia dentro, però obiettivamente è la sagra del tracciato. Ci sono tracciati sulle mura che vi danno dei punti, tracciati bidimensionali della chiesa e del fortino che vi daranno altri punti, ma alla fine è molto astratta come esperienza. Almeno io ho avuto questa sensazione qua. E la mancanza di densità regolistica, che per me, sapete, è un po' un down, e la totale mancanza di tema, secondo me, mi portano a dargli un 6,5. Col tempo possono portarlo fino a un 7, perché effettivamente il gioco è veramente divertente da esplorare. Nel senso che più esperienze facciamo, più riusciamo ad arricchire anche la nostra esperienza di gioco con una coscienza di quello che stiamo facendo. In ogni caso promosso. E nuova prova per Succi con il suo Praga. È un gioco che, come prima aggettivo che mi viene per descriverlo, è disorientante. Le prime partite sono assolutamente ampie, così spaziose, che non si sa da dove iniziare, perché le quantità di cose che si possono fare e da ricordare sono molte. Certo, l'azione di selezione è semplice, è immediata, ma quello che poi scatena a valle è davvero tanta roba. Dobriamo stare attenti alla nostra plancia di gioco, all'implementazione delle azioni che possiamo andare a fare a ciò che succede sulla plancia centrale di gioco. E ne succede veramente tanta di roba sulla plancia centrale. Quindi, non fate l'errore di scartare subito il gioco, perché magari le prime partite possono sembrare, appunto come dicevo, disorientanti. È un gioco che deve essere decantato, quindi 5-6 partite e comincerete ad avere finalmente il polso di questo gioco, che, come dicevo, ha veramente tanta roba al fuoco. Altra cosa molto interessante è quello che dobbiamo bilanciare nel corso della partita fra strategie e tattica. Certo, potremo andare a ragionare su un certo tipo di strategia in base a quello che già vediamo sul tabellone di gioco, ma dovremmo essere anche opportunisti, vedere cosa esce fuori, cosa fa il giocatore prima di noi o i giocatori prima di noi e andare a scegliere quello che magari più ci conviene in quel momento lì e le occasioni golose non mancano, soprattutto se alcuni giocatori prima di noi per voler fare necessariamente delle azioni lasciano lì una delle azioni avanzare nel cerchio della selezione e caricare di bonus e di punti un'azione che magari è meno interessante per gli altri quindi devo dire è veramente un gran mix di scelte e possibilità ribadisco il gioco sicuramente deve essere lasciato decantare e per tutto questo quindi gli direi dopo 5-6-7 partite Praga si merita un bel 7,5 vi dirò questo Praga mi ha fatto riflettere quasi come fosse un vino da meditazione cioè qual è la genesi che porta qualcuno a realizzare un titolo simile nel senso che hai un quantitativo di cose da fare e modi di far punti infiniti praticamente che significa longevità non è tanto male e vi dirò se state pensando in salata di punti virgola quasi perché qui comunque e qui è ragionamento sulla genesi che ha portato a fare un gioco simile in realtà è tutto ben coordinato nel senso cosa fai? tu pensi a delle meccaniche poi diciamo mi piace anche questa e le aggiungi continuamente sopra no perché non sarebbe uscito fuori un'amalgama comunque di meccanismi che funzionano che sono coordinati tra loro e che sono ben sposati l'uno con l'altro è quasi come fosse il sandbox applicato al gioco germano o a Eurogame un sandbox perché? perché tu entri a Praga nel gioco come nella città nella seconda metà del 1300 e puoi fare di tutto puoi diventare imprenditore edile e dedicarti alla periferia della città piuttosto che al centro storico piuttosto che al muro della fame che è fatto con le uova e migliorare le competenze dei tuoi lavoratori costruire fortificazioni intorno alla tua cittadella tutto giostrato su due tracciati di cui tra l'altro si fa una certa fatica anche a salire quindi bisogna pensarci certamente che uno è quello della cattedrale e l'altro è quello della politica come deve essere il manuale di un gioco simile uno prende paura se glielo spieghi così ma in realtà invece il manuale è scritto molto bene e quindi anche immediato beh immediato la parola grossa perché appena ti siri al tavolo inizia ad avere un po' di sparesamento è immediato però capire come giocarlo quello sì imparare le regole non è poi così complicato anche se sono tante è un gioco dalla componentistica sicuramente molto colorata e questo mi ha attratto c'è un maledetto cubetto su quella ruota di selezione delle azioni che a un certo punto cade per bloccare la ruota e riguarda il finito un turno se fai una cosa simile devi essere esperto di meccanica e di precisione perché devi cadere nel momento giusto non un po' più in qua un po' più in là come succede adesso io ho gliato quel cubetto e volevo lanciarlo fuori dalla finestra complessivamente nella mia valutazione vi dirò il gioco mi è piaciuto e ci ho fatto anche un po' di partite però c'è qualcosa che mi frena quindi non vado oltre il 7,5 potrei fare numerose battute sul nome di sushi ma sushi sashimi ma mi verrebbe fame